ragazze ciao a tutte oggi video sugli acquisti che abbiamo fatto da ecco come si eccoci qua allora procediamo il pacco è arrivato che erano l'uno e mezza 20 alle 2 no 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 ma che erano due e mezza 20 alle 3 dovevo partire per venire a prendere te come al solito vedete il fondo schiena dichiarare che lei è come la prezzemolina esatto perché perché ho preso lo scatolone e l'ho appoggiato lì sulla teppena sabina pranzato sono riposata poco ho sistemato dei panni ho steso dei panni la banelatra e via allora guarda ci sono i sacchetti che carini non mi hanno messo il pluribol no ti hanno messo quelli a posto dei panni boh madonna santa ma troppo casino scusate questa è la fattura eccoci qua aspettate eh che se riesco a coprire i miei dati a posto che di solito ti volete quando faccio vedere anche acqua e questa è la fattura uno scatolone gigantesco perché due scatoline così esatto lo scatolone perché noi da QVC andiamo prendere solo di scusi quasi scusi ho lo yogurt da fare in casa ecco qua forbicina abbiamo mandato prendere 12 kg di yogurt da fare in casa e dopo vi faremo anche vedere il video su come si prepara oggi non si garantisce il giraggio il giraggio non c'è così ma scusate oggi giovedì sono tornata anche dalla scuola sono stata e fine settimana si fa sentire no che anche se questo un po' di più rispetto allo yogurt che c'è adesso che ha mercato però è buono buono uh le buste nuove non mi ha fatto il dito ma va bene allora in questa scatola troviamo perché ho mandato a prendere due set allora un set composto due set da 6 kg allora topi è che l'altro ecco esatto nel primo set ci sono c'era i 3 kg di greco e cocco cos'è? sono belli o lo dobbiamo ancora sapere? infatti sono tutti i gusti quasi tutti nuovi 3 kg di greco e cocco e a scelta c'erano altri tre gusto un attimo e altri 3 kg di yogurt da scegliere noi abbiamo scelto la vaniglia eccola qua nell'altro set invece c'erano 3 kg di yogurt greco questo qui oltre che a mangiarlo così no il greco il greco drenarlo a drenarlo ci si fa il formaggio che è buonissimo diventa tipo il filadelfia esatto e poi lo si può arricchire con quello che se noi avevamo fatto il prosciutto e funghi ti ricordo che non era buono non so se lo ricordo più e c'erano tre gusti da scegliere altri 3 kg da scegliere e noi abbiamo scelto l'ananas con pezzi di cocco eccoci qua eccoci qua aspetta noi da che cosa partiamo? greco e cocco che è da tanto che lo volevamo prendere ma cioè non ricevamo male facciamo un greco e cocco niente ragazzi questi qua sono gli acquisti che abbiamo fatto su Isio no su QVC di Isio lo yogurt buono buono che proviene dalla Nuova Zelanda praticamente qui c'è lo yogurt liofilizzato come il latte esatto come il latte in polvere già come yogurt rispetto ad altri ha basso contenuto calorico quindi è un po' meno e in più sta anche in meno posto guardate esatto non ci sono più i barattolini e il cartoncino peccato mi piaceva perché il mercato avevamo letteralmente un secchiello di uomo ecco perché e poi una volta fatto dura 15 giorni nel frigo praticamente non ci arriva a 15 giorni ecco sai cosa ho trovato io? oddio anche perché questo qui non contiene glutine guardate per chi è allora aspetta surge of calcio che sarebbe non lo so va bene anche per i vegetariani mi sa senza glutine esatto ecco contiene calcio vegetariano senza glutine esatto come vedete ma no noi ce li abbiamo i barattolini ancora piccoli? si se lo porto a scuola certo che puoi portarlo a scuola però dammi un sacchettino che ci metti dentro il sacchetto cioè il si ci metti dentro il cucchiaino si si cucchiaino avevo visto per l'estate beh ma niente ma ti do il abbiamo il suo bar di a barca si ma c'è anche in giro avevo visto il termos per portare in giro lo yogurt e ti volevo vedere guardate questo che viene dalla nuova Zelanda eccoci qua niente ragazze io spero che il video vi sia piaciuto vi abbia tenuto un po' di compagnia vi abbia fatto anche magari scoprire un prodotto nuovo a breve caricheremo anche il video su come farlo ora possiamo fare anche il video di come si fa a drenarlo si va bene con calma arrivano allora va dai diciamo già che in futuro arriveranno altri due nuovi video dedicati a Isio come farlo e come drenarlo e come drenarlo soppi ma sta dormendo in piedi si sta dormendo in piedi oggi ma niente ragazze noi vi lasciamo un grossissimo bacio grossissimo ce la posso fare ciao e ah se avete domande a roba del genere mi raccomando giù nel nei commenti potete farci tutte le domande che volete e noi pian pianino vi rispondiamo esatto quindi un grosso bacione ciao alla prossima ciao 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 ciao